Una partenza da segnare sul calendario, quella di oggi perché finalmente a quasi 14 anni dal terremoto prende il via la prima tranche di lavori da 37 milioni di euro sulla cattedrale di San Massimo e il Duomo. La svolta dopo la visita di Papa Francesco ad agosto. Le opere dovrebbero concludersi entro cinque anni e avranno come direttore dei lavori l'architetto Augusto Cicciotti che in questi anni tanto si è speso per la questione. Questa mattina al segretariato una conferenza stampa per i dettagli. Si apre così uno degli interventi di consolidamente il restauro post sisma più complessi attesi. Il segretariato ha consegnato ufficialmente i lavori alla Cobar SPA, la ditta esecutrice. La cattedrale è un monumento simbolico, è un'architettura identitaria per la chiesa e la città di L'Aquila che rimanesse in una condizione di disastro non strutturale era motivo di grande rammarico e non soltanto per le istituzioni locali tutte ma per la gente. Il fatto che oggi si attivi la ricostruzione non può che essere un evento salutato con grande apprezzamento, soddisfazione. Io intendo esprimere la mia riconoscenza a tutti coloro che hanno contribuito a questo come lei l'ha definito e io penso pure miracolo. Quindi innanzitutto i vari organismi preposti ma anche tutti coloro che si sono spesi. Noi abbiamo fatto la nostra parte fino in fondo sempre cercando il dialogo perché io sono convinto che il rapporto tra istituzioni e con le istituzioni debba essere imbrondato a questa fiducia. Ecco le risorse ci sono perché voi più volte avevate chiesto diciamo delle integrazioni? Le risorse ci sono, il progetto è stato strutturato in due stralci, al momento è stato contrattualizzato lo stralcio numero uno compatibilmente con le risorse decretate ma abbiamo le rassicurazioni del ministero per le risorse del secondo stralcio. Quindi presumibilmente andremo in continuità e sarà un cantiere, ci auguriamo, che potrà riservare soddisfazioni tecniche e concretezza nella riabilitazione di questo monumento. Una partenza da segnare anche per la riqualificazione di Piazza Duomo al Via Oggi il Cantiere, una riqualificazione da 7 milioni di euro del PNRR. Di buona mattina le prime gru hanno occupato la piazza per l'allestimento del cantiere sotto l'occhio attento della Polizia Municipale. I lavori interesseranno prima la parte dei negozi e quella della cattedrale. Il 5 giugno al massimo questa parte dovrebbe concludersi per lasciare spazio al lato delle ex poste. I due lotti finali riguarderanno le listi centrali della piazza, un anno stimato da cronoprogramma per la conclusione, con interruzioni solo per brevi periodi, come per la perdonanza ad esempio, pietra bianca come per il corso, per la pavimentazione, ma per il centro della piazza si valuta una pietra leggermente più scura sul grigio. Via e marciapiedi ci sarà una rambla con panchine, piante a re di illuminazione nuova e con una linea scomparsa per l'elettricità.